Bologna e Inter, dove vederla e ora, Dazn, Sky, Streaming TV. Bologna oggi Bologna e Inter si affrontano nel lung match della 24esima giornata del campionato di Serie A. Ecco dove seguirla. Partita, Bologna e Inter orario partita, ore 12 e 30 canale TV, Dazn. Sky Sport 1, 201, Sky Sport Calcio, 202, e Sky Sport, 251, Pay TV Streaming, Dazn. Sky Go Now dove a che ora vedere Mila a Roma, orari e canali Bologna e Inter. In programma alle 12 e 30 allo stadio Dall'Ara, sarà il lung match di questa domenica di campionato. La sfida tra Thiago Motta e Inzaghi sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky sui canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, e Sky Sport. La sfida sarà disponibile anche in streaming via App e Smart TV sempre su Dazn. Sky Go Now. Segui Bologna e Inter su Dazn. Attiva ora Bologna e Inter in diretta, la cronaca. Entrambe le squadre vivono un buon momento di forma, i rossoblu e i nerazzurri hanno vinto tre delle ultime quattro gare di campionato. I uomini di Inzaghi sono reduci anche dal successo in Champions League contro il Porto. Nell'andata degli ottavi di finale segui Bologna e Inter sul nostro sito.